Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. Patrick Wayne Kearney nasce nel 1939 in California, è il più giovane di tre fratelli. Nel corso dell'infanzia e dell'adolescenza non cresce moltissimo, rimane sempre molto magro e tende ad ammalarsi facilmente. È inoltre un ragazzo molto timido. Questo lo porta a diventare bersaglio dei bulli a scuola. Già all'età di otto anni, Patrick sa che una volta cresciuto ucciderà delle persone. E in effetti, quando entra nell'adolescenza, inizia ad avere fantasie su come portare a termine questi omicidi. E sono proprio quelle fantasie così piene di dettagli che Patrick prova a trasformare in realtà. L'uomo commette il primo omicidio a metà degli anni Sessanta. In quel periodo si trova a Orange, in California. Spesso cerca le sue vittime in luoghi frequentati da uomini omosessuali che, di base, vogliono vivere l'avventura di una notte. Patrick in realtà appare come un uomo normale. È un veterano dell'esercito degli Stati Uniti ed è stato sposato per un breve periodo. Tuttavia non è felice. Nel 1962 incontra qualcuno che sembra proprio cambiargli la vita. Patrick, che è di stanza con l'aviazione in Texas, incontra David Douglas Hill, che diventerà il suo amante. David, però, è sposato con una donna. Ed è anche lui un veterano dell'esercito degli Stati Uniti. Si è arruolato dopo aver abbandonato la scuola superiore a Lobok, in Texas. Entra nell'esercito nel 1960, ma gli viene diagnosticato un disturbo della personalità. E gli viene concessa la dimissione medica. Quando torna a casa a Lobok, si sposa con la sua fidanzata del liceo. L'unione, però, esattamente come il matrimonio di Patrick, non dura molto. Quando Patrick e David si incontrano, quest'ultimo divorzia. Nel 1966 i due uomini si trasferiscono in California a Culver City, un soborgo di Los Angeles. Una volta che si sono sistemati, Patrick viene assunto alla Hughes Aircraft, come ingegnere aeronautico. Prende un ottimo stipendio, tanto che David rimane a casa. Sembra che i due si siano innamorati a prima vista e rimarranno insieme per dieci anni. Durante questo periodo, però, la relazione non è per niente tranquilla e sana. Infatti, David e Patrick litigano spesso. Quando accade, puntualmente David si allontana da casa e va a ospite da qualche amico per un paio di notti. Oppure va a letto con qualcun altro, solo per vendicarsi. A volte, se la lite è particolarmente violenta, torna a casa a Lobok per un po'. Tuttavia, alla fine, torna sempre da Patrick. Qualsiasi cosa succeda e qualunque sia stato il motivo della discussione. Mentre David è fuori casa, le frustrazioni di Patrick raggiungono il loro apice. Infatti, ogni volta che Patrick e David litigano e David se ne va, Patrick esce, sale in macchina e va alla ricerca di qualche vittima. Patrick è particolarmente piccolo di statura, dunque è poco probabile che riesca a sopraffare il suo bersaglio. Ragion per cui porta con sé una pistola calibro 22. A volte, quando Patrick trova una potenziale vittima e questa sale sul suo veicolo, prende l'autostrada e presta molta attenzione, deve rispettare i limiti di velocità per non dare nell'occhio. Con una mano tiene il volante, con l'altra estrae la pistola e spara senza pietà la persona che sta accanto a lui, seduta sul lato passeggero. A questo punto l'uomo guida con il cadavere in macchina fino a trovare un posto isolato. E, solo a quel punto, inizia a sfogare tutte le sue frustrazioni e la sua rabbia repressa, esercitando sulla vittima un potere che non riesce ad avere normalmente. Patrick infatti si toglie i vestiti e si dà pratiche intime con il corpo della vittima. Dopodiché tira fuori un seghetto e smembra il cadavere in tanti piccoli pezzi. Se si trova a casa, invece, smembra i corpi nel suo bagno, drenando il sangue per eliminare qualsiasi potenziale odore. Si assicura, inoltre, di non lasciare mai impronte digitali. Patrick impara questo metodo leggendo informazioni sugli omicidi commessi da Dean Corle, detto anche Candyman. Studia gli orribili crimini di Corle, arrivando persino a raccogliere degli articoli di giornale sui suoi delitti. La maggior parte delle vittime di Patrick sono simili alle persone che lo maltrattavano quando era adolescente. La vittima di Patrick più giovane, nota al pubblico, diciamo, è il piccolo Ronald Dean Smith, di 16 anni. Il bambino scompare a Lenox, in California, il 24 agosto 1974. Il suo corpo viene scoperto nella contea di Riverside, quasi due mesi dopo, il 12 ottobre 1974. Arriviamo al 16 giugno 1976, quando Patrick uccide Michael Craig McGee, di 13 anni. Michael è di Redondo Beach, in California, e ha una lunga storia di delinquenza giovanile. Patrick carica in macchina Michael, mentre il giovane fa l'autostop da Lenox a Torrance, in California, un viaggio di circa 16 chilometri. L'uomo fa amicizia con Michael e gli suggerisce di andare insieme in campeggio per il fine settimana a Lake Elsinore. Il ragazzino viene ucciso in modo inaspettato. Patrick gli spara dopo che Michael inizia a vantarsi delle sue avventure criminali. Il 13 marzo 1977, verso le 17.30, il 17enne John Otis Lamey lascia la sua casa per dirigersi a Redondo Beach, in California. Dice al suo vicino di casa di doversi incontrare con un ragazzo di nome Dave, che frequenta la sua stessa palestra. John, però, non torna più a casa quella sera, né il giorno seguente. La madre del ragazzo è fuori di sé, vuole sapere dove è finito suo figlio, quindi chiama il dipartimento di polizia di El Segondo. La donna è certa che a John è successo qualcosa di brutto. Il ragazzo non si allontanava mai per più di un giorno, ma soprattutto era solito dirle dov'era o dove sarebbe andato. Le autorità, però, come accade molto spesso in questi casi, si convincono che il ragazzo è semplicemente scappato di casa. Ai tempi, in effetti, parecchi adolescenti si allontanavano da casa volontariamente. Cinque giorni dopo, il 18 marzo, le peggiori paure della madre di John si avverano, perché vengono trovati i suoi resti lungo un tratto di autostrada a pochi chilometri a sud di Corona, in California. Il suo assassino ha smembrato il corpo di John, l'ha lavato e l'ha prosciugato di tutto il sangue. Le parti del corpo vengono trovate divise in cinque sacchi della spazzatura, sigillate con del nastro adesivo. Tre dei sacchi sono stati infilati in un fusto di petrolio da 80 galloni, mentre gli altri due giacciono a terra accanto ad esso. Sebbene manchi la testa, i resti vengono identificati perché John Lamey aveva una voglia particolare sul corpo. Un'altra vittima di Patrick è Merle Hondo Change, di 8 anni. Vive a Venice, in California, e scompare il 6 aprile 1977. I rapporti affermano che Merle stava andando in bicicletta vicino al luogo in cui lavorava Patrick. L'uomo lo ha soffocato e portato a casa con sé quella sera. Successivamente ha abbandonato i resti del corpo in un parco dove vengono ritrovati in decomposizione. Poco dopo più di 45 giorni, il 26 maggio 1977. Prima della morte di Merle, la polizia aveva considerato Patrick come responsabile possibile di un altro omicidio. Tuttavia Merle è l'ultima vittima conosciuta collegata a Patrick. A questo punto bisogna sottolineare un'informazione importante. Patrick non è l'unico serial che prende di mira i giovani cittadini della California meridionale. Kenneth Bianchi era un altro serial attivo in quell'epoca, così come Angelo Buono. C'è poi il serial più famigerato della California, noto come Zodiac, che si diverte a schernire le autorità. Se ci spostiamo più vicino alla zona di Los Angeles in cui Patrick commette i suoi crimini, scopriamo ben presto altri due serial attivi. Il primo è Randy Kraft, il secondo è William Bonin. La verità però è che prima che le autorità si rendano conto di avere a che fare con ben tre assassini diversi, passa del tempo. Infatti tutte le vittime che trovano le riconducono all'assassino dell'autostrada. Dopo un po' con il passare del tempo e l'aumento del numero delle vittime, le forze dell'ordine notano una notevole differenza nel modus operandi dei vari omicidi. Il vicino di John Lamey, la penultima vittima di Patrick, dice all'autorità che il ragazzo gli aveva detto che sarebbe andato a casa di un compagno di palestra di nome Dave che viveva a Redondo Beach. Le autorità dunque partono proprio da questa informazione e iniziano le loro indagini. Questo Dave tuttavia non è altro che il compagno di Patrick, ossia David. Quindi i detective arrivano ben presto a bussare alla loro porta di casa, che si trova proprio a Redondo Beach. Quando i poliziotti arrivano alla loro porta, Patrick e David li invitano a entrare. I due sembrano tranquilli, ovviamente preoccupati per la scomparsa del ragazzo, ma insomma pare che siano innocenti. Tuttavia, mentre gli investigatori sono a casa loro, ne approfittano per raccogliere alcune fibre da un tappeto presente in salotto. Questo perché in tutti gli omicidi in cui le vittime sono state trovate nei sacchi della spazzatura, sono state rilevate delle fibre di moquette intrappolate nel nastro che sigillava i sacchi. E in effetti le fibre raccolte a casa di Patrick e David corrispondono a quelle trovate sul nastro adesivo. Quando i detective se ne vanno, Patrick distrugge tutte le informazioni su Dean Corl. Poco dopo le autorità tornano per chiedere ai due uomini dei campioni dei loro peli pubici, dei loro capelli, e anche il pelo del loro cane. Patrick e David forniscono tutti i campioni richiesti. Ma perché a chiedere dei campioni di peli e capelli? Ebbene, il coroner è riuscito a trovare tracce di capelli sul corpo di John, e queste tracce in effetti combaciano con i campioni. Tuttavia, quando le autorità tornano nella casa con un mandato di perquisizione, i locali sono già stati sgomberati. Insomma, Patrick e David se ne erano andati da tempo. Ovviamente, ciò non impedisce alle forze dell'ordine di continuare a condurre le loro ricerche. Trovano il seghetto di Patrick, a cui aveva sostituito la lama. Ma l'uomo non aveva ripulito i frammenti di tessuto e il sangue agli angoli dell'oggetto. Quei campioni corrispondono, tra gli altri, anche a sangue e tessuti di John Lamey. Una perquisizione del bagno svela che è presente tanto sangue. È ovunque. Non è visibile a occhio nudo, ma con luminol sì. La polizia trova inoltre dei frammenti di nastro adesivo molto simile a quello usato per chiudere i sacchi della spazzatura che contenevano i corpi delle vittime. A questo punto, le autorità vanno a perquisire anche l'ufficio in cui lavora Patrick, alla Hughes Aircraft, e trovano gli stessi sacchi della spazzatura che ha usato per liberarsi di almeno 20 vittime. Il cerchio si sta stringendo, quindi Patrick e David fugono a El Paso, in Texas. Però la vita da fuggitivi non è quella che vogliono condurre. Dopotutto le autorità li hanno già identificati e i due, convinti dei loro familiari, tornano in California. Arriviamo al primo luglio del 1977. Sono le 13.30 quando Patrick e David entrano nell'ufficio dello sceriffo della contea di Riverside. Si avvicinano al vice sceriffo e indicano il poster con le loro foto e la scritta ricercati appeso sul muro lì vicino. Si limitano quindi a dire tranquillamente, siamo noi quelli del poster. Vengono immediatamente fermati e sospettati di aver commesso due omicidi. Tuttavia le autorità hanno intenzione di interrogarli su altri aspetti della situazione, in quanto potrebbero essere collegati ad altri ulteriori sei delitti. Il giorno successivo vengono chiamati in giudizio davanti a un giudice e la loro cauzione viene fissata a 500.000 dollari. Patrick decide di collaborare pienamente con le autorità. Durante la sua confessione dice che gli omicidi lo hanno eccitato, dandogli una sensazione di dominio. La sola idea di uccidere una persona per Patrick è intimamente eccitante. Gli investigatori quindi iniziano a interrogarlo in modo più approfondito. Gli chiedono se ama prendere di mire i Marines, se alle sue vittime fornisce alcol o sostanze. Patrick però rimane lì e li fissa con aria assente. Poi gli chiedono se ha mai inserito dietro una vittima qualche corpo estraneo. Patrick spiega di non averlo mai fatto. Tuttavia i detective continuano a fargli domande perché ci sono più vittime tutte ritrovate ai lati dell'autostrada oppure nel deserto. Patrick a questo punto capisce la situazione e dice chiaramente che lui non c'entra niente. Impalare, torturare e strangolare le vittime non è il suo modus operandi e non lo è mai stato. Lui in realtà si trova più a suo agio con un'arma da fuoco, spara un colpo alla sua vittima mirando la testa e poi dopo l'uccisione si avventa sul corpo per dare sfogo alle sue fantasie. Sebbene in un certo senso sia molto impulsivo, Patrick è anche meticoloso e soprattutto dopo ogni crimine entrava in paranoia all'idea di essere scoperto. E in effetti sembra che l'uomo sia più che altro offeso quando le autorità cercano di attribuirgli gli omicidi di Randy Kraft e William Bonin. Il 13 aprile 1975 vengono ritrovati i resti del 21enne Albert Rivera lungo l'autostrada 47. E a pezzi, le parti del corpo smembrate vengono trovate in sacchetti della spazzatura. Tuttavia nella sua confessione che avviene tramite delle lettere e delle conversazioni con i detective, Patrick sostiene di aver iniziato ad uccidere a metà degli anni 60. L'uomo conduce gli investigatori nel luogo in cui ha seppellito un certo George, la sua prima vittima. La discarica si trova proprio dietro il condominio dove lui e David avevano vissuto a Culver City, in California. A quanto dice Patrick, ha compiuto l'omicidio intorno al Natale del 1968. Quando le autorità ordinano di seguire degli scavi nell'area, scoprono i resti scheletrici di George. Il suo cranio presenta un unico foro di proiettile fatto da una pistola di piccolo calibro. Dopo aver ucciso George, Patrick spiega di essere diventato così tanto paranoico che non ha commesso nessun altro omicidio per oltre un anno. Dopo un anno, considerando che nessuno si era presentato a casa sua ad accusarlo di essere un assassino e arrestarlo, pensava di averla fatta franca. Gli investigatori vanno anche a intervistare uno degli ex vicini di Patrick e David, il quale comunica che occasionalmente, in effetti, ha udito il rumore di quelli che pensava fossero spari. Non pensava però che quegli spari provenissero dall'appartamento dei due uomini. Quando Patrick viene preso in custodia, scrive diverse lettere agli investigatori per esporre i dettagli dei suoi crimini, il nome di ciascuna vittima e i luoghi in cui si è sbarazzato dei corpi. Inoltre, stando a ciò che dice Patrick, David non era neanche a casa quando ha attirato John la May nella sua dimora. Quando il ragazzo aveva bussato alla porta, Patrick lo aveva invitato a entrare e guardare insieme la tv in attesa del ritorno di David. Quindi, quando John si era effettivamente iniziato a rilassare guardando la televisione, gli aveva sparato alla testa e in seguito si era sbarazzato del suo corpo smembrato nel deserto. Patrick sottolinea che preferiva abbandonare le sue vittime nel deserto perché i vari insetti e gli animali avrebbero potuto cancellare le prove prima ancora del ritrovamento dei resti. Sebbene Patrick fosse riuscito a cavarsela per così tanto tempo, ci sono state alcune situazioni in cui si è trovato in difficoltà. Una volta, ad esempio, ha bucato una gomma mentre stava guidando nel deserto per scaricare il corpo di una delle sue vittime. Si è fermato per sostituirla, ma si è reso conto che anche la gomma di scorta era terra. È stato dunque costretto a chiamare un carroattrezzi per portare la sua auto in una stazione di servizio vicina. Ha osservato attentamente l'addetto della stazione di servizio che riparava la gomma terra. E fortunatamente, l'uomo non ha chiesto perché mai Patrick avesse tanti sacchi della spazzatura sul sedile posteriore. I sacchi erano pieni delle gambe e delle braccia di una delle sue vittime. E persino di una gabbia toracica e di qualche intestino. In un altro momento, Patrick era in giro per cercare delle potenziali discariche dove abbandonare i corpi. E in pratica ha chiuso la macchina con le chiavi all'interno. Ha preferito provare ad aprire la serratura della vettura con una gruccia piuttosto che chiamare l'assistenza stradale. Anche perché, pure in questo caso, sul sedile posteriore della macchina aveva dei sacchi della spazzatura pieni di parti del corpo di una sua vittima. Appena è riuscito a scaricare le borse, ha sentito un enorme peso sollevarsi dalle spalle. Ma c'era anche qualcos'altro. Patrick aveva la sensazione di essersi finalmente realizzato, ma soprattutto di avere un immenso potere. Secondo alcuni psicologi, l'atto di uccidere in serie è simile a una dipendenza. La teoria è che una volta che la persona inizia a uccidere, magari anche per caso inizialmente, può diventare dipendente dall'omicidio come una persona può essere dipendente dal gioco d'azzardo o dall'alcol. È un circolo vizioso che inizia con una fantasia che scatena nel serial la voglia di trovare la vittima successiva. Quando trova la vittima commette un omicidio, subito dopo c'è un periodo più o meno breve di pausa per poi rincominciare tutto da capo. Nel tempo queste persone rimangono bloccate nella dipendenza. È a questo punto che tendono a diventare molto più frenetici. Iniziano ad uccidere più di frequente e il livello di violenza aumenta. Tutto questo processo non ha mai fine, o almeno termina quando vengono catturati. È stato condotto uno studio sui modelli di 326 serial maschi degli Stati Uniti che hanno commesso i loro crimini tra il 1800 e il 1995. Ebbene, questo studio ha concluso che circa l'87% degli autori aveva ucciso almeno uno sconosciuto e il 70% aveva ucciso solo estranei. Tra i serial, i più prolifici sono anche i più organizzati nei loro metodi. Ciò significa che si prendono del tempo per seguire, a volte addirittura perseguitare le loro vittime, cercando un momento più adatto per colpire col fine di diminuire le possibilità di essere scoperti. Tendono anche a lasciare i corpi delle loro vittime il più lontano possibile dalla zona in cui abitano per ridurre la possibilità di lasciare indizi sulla loro identità. Tuttavia, la maggior parte delle persone che diventano vittime di serial tendono ad essere tra i più vulnerabili della società, ossia bambini, anziani e passeggiatrici. Tuttavia, c'è un altro aspetto molto importante, perché gli omicidi in sequenza hanno sempre una motivazione. I serial, quando colpiscono, sono impegnati e si sforzano di soddisfare un bisogno molto intenso. Spesso è il bisogno di esercitare del potere sul prossimo o di mettere in atto i propri desideri fortemente sadici. In altre parole, un serial, secondo queste teorie, non uccide le persone per soldi, amore o senso di giustizia. I serial uccidono perché stanno meglio con loro stessi. Il procuratore distrettuale della contea di Riverside a questo punto convoca il gran giurie per determinare quali sarebbero state le accuse di Patrick e David. Dopo tre lunghe ore in cui sono state esaminate le prove, il gran giurie decide di non incriminare David Hill. Dopo aver ricevuto questa notizia, il difensore pubblico di David lo preleva dalla prigione e lo fa uscire di nascosto, in modo da impedire alla folla, ai giornalisti e ai fotografi radunati fuori di assediarlo. A questo punto David lascia definitivamente la California e torna a Lobok, in Texas. In un comunicato stampa, il procuratore distrettuale di Riverside, Byron Morton, dichiara che le prove contro il signor David Hill erano deboli. Spiega inoltre che le prove raccolte dagli investigatori, in effetti, scagionano David. Il procuratore non ritiene che le prove fossero sufficienti a dimostrare la colpevolezza di David oltre ogni ragionevole dubbio davanti alla Corte Suprema. Secondo Patrick, infatti David non era né coinvolto né a conoscenza degli omicidi. Ha affermato che lui e solo lui ha commesso tutti gli omicidi mentre David era fuori casa e questo accadeva sempre a seguito di un litigio. Andando addirittura contro i desideri del suo avvocato, Patrick cambia la sua dichiarazione da non colpevole a colpevole. Il suo avvocato chiaramente vuole che si dichiari non colpevole per appigliarsi alla sua incapacità di intendere e di volere. Ciò nonostante, Patrick si dichiara colpevole di tre accuse di omicidio. Ha di base solo una richiesta. Vuole ricevere immediatamente la condanna, ma soprattutto vuole evitare la pena di morte. La decisione presa da Patrick risulta un po' strana in quanto la pena di morte non entrerà in vigore fino all'agosto del 1977. Tutti gli omicidi che ha commesso l'uomo sono avvenuti prima di quella data, quindi la pena di morte non sarebbe stata comunque un'opzione valida per l'accusa. Durante il processo di Patrick, il giudice superiore John Hughes lo condanna all'ergastolo, con la possibilità di ottenere libertà condizionale dopo sette anni. Ma le accuse per omicidio non sono finite, infatti Patrick finisce col subire un altro processo. Alla fine, l'uomo ha confessato in tutto 32 omicidi, ma è stato condannato solo per 21 di essi, che gli costano 21 ergastoli. Attualmente Patrick Wayne Kearney ha 83 anni ed è detenuto nella prigione statale di Mule Creek, in California. Detto questo, io ho finito di parlare in questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso, conoscevate questo serial? Io onestamente ne avevo sentito parlare, ma non avevo mai approfondito più di tanto. Sono molto curiosa di sapere quali sono le vostre opinioni, quindi come al solito noi ci becchiamo qui sotto nei commenti. Io nel frattempo vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Ciao a tutti!